Bene, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Vi giuro, non sono stato io, ragazzi, a fare rimbalzare il mercato il 18 dicembre, quasi un orologio svizzero, con quello che è stato il video di lunedì scorso di questa settimana con la nostra analisi ciclica. Che addirittura anche il livello di supporto indicato è stato quello che ha dato il boom per il rimbalzo del mercato delle criptovalute, che ancora non sappiamo se è un rimbalzo vero oppure sarà semplicemente un gatto morto. Questo lo vedremo lunedì nel video, però volevo fare questo video, ragazzi, perché mi sono arrivate una serie di email, non tantissime, 4-5, perché di solito gli altri scrivono nei commenti del video di YouTube, però una email è stata fenomenale da un utente che si chiama Giovanni, io ho risposto già tranquillamente sulla mail, però volevo anche rispondere a tutta la community di Trading Onno per farvi capire che cosa è successo e poi indicarvi anche una cosa molto importante per rispondere alla mail di Giovanni, devo anche farvi vedere come ho gestito io questa operazione e adesso vi spiego anche perché alla fine del video vi faccio vedere tutta la mia strategia, come è stata costruita per prendere questo rimbalzo di Bitcoin e fare trading intraday più o meno, insomma l'operazione è andata quasi a scadenza daily, ma vi faccio vedere quello che ho applicato, indicatori, la strategia, il time frame alla fine del video. Se ancora non l'avete fatto però ragazzi intanto mettetemi un mi piace su questi video perché mi aiutate, aiutate la community di Trading Onno, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, nei commenti di questo video ragazzi scrivetemi tutti i vostri dubbi perché siccome alla fine faremo anche vedere questa strategia che io ho utilizzato, quindi scrivetemi nei commenti tutto quello che vi gira in testa. Allora ragazzi guardiamo quello che è successo, facciamo tutto in generale, il 18 dicembre ci aspettiamo la scadenza ciclica, il mercato arriva, io indico un livello di supporto a 6.400, il mercato raggiunge quasi 6.400, 6.477 Bitfinex e altri Binance insomma un po' più giù, quindi vicinissimo al livello di supporto, bam ci fa questo candelone rimbalzone incredibile durante la stessa giornata, come fa spesso Bitcoin ragazzi, non è la prima volta, dopodiché insomma si scatena un po' l'ironia anche del web ragazzi anche sull'Academy, molti scherzano e ridiamo insieme sulla precisione di questa analisi, dopodiché però al di là di questo mi premeva leggervi l'email di Giovanni che è fantastica. Allora ciao Mauro, ti seguo da quasi un anno, complimenti per il grande lavoro grazie a Giovanni che stai facendo e per la chiarezza e semplicità dell'esposizione dei tuoi video, volevo farti i miei complimenti anche perché questa volta hai preso alla perfezione l'inversione di Bitcoin, va bene, ok, è da poco che ho iniziato a fare trading e ti chiedo un consiglio, vorrei imparare a prevedere i mercati come fai tu in modo da poter comprare quando il mercato ha toccato un minimo e vendere dopo sul massimo, cosa devo fare per imparare a fare ciò? Grazie e ancora complimenti. Allora lo so che molti di voi stanno già iniziando a ridere perché già mi vedono incavolato e dico che devo dire quello che dico. Allora oggi sono sotto clima natalizio e quindi voglio stare più sereno, più tranquillo, non il cappello di Babbo Natale però poco ci manca. Allora intanto Giovanni va straringraziato ragazzi, poi anche se le persone sono neofite ovviamente scrivono quello che è effettivamente il loro dubbio e per questo io sprono tutti quanti a farlo anche nei commenti perché si impara solo così. Allora intanto io non prevedo il futuro, questa cosa ovviamente non esiste, non la può fare nessuno, dal che si dica anche se Giuca Scasella in tv era solerte diciamo fare questo spettacolo. Non si può prevedere cosa fanno i mercati finanziari ragazzi, no. Si può fare, se qualcuno ve lo dice disiscrivetevi al canale di chi vi dice questa cosa o cancellate la pagina web che state leggendo. Però quello che noi facciamo perché si riesce a verificare una situazione come quella del 18 ragazzi? Perché utilizzo delle strategie e delle tecniche di analisi dei mercati che sono molto affidabili. Questo è possibile farlo ragazzi dopo decenni di esperienza, decenni di studio e grande formazione, anche un po' di intuito ovviamente il talento non deve mai mancare ragazzi. Si può fare questa cosa, si può con un certo livello di probabilità avvicinarsi a prevedere tra virgolette quello che può essere un movimento del mercato. Guardate bene lasciandosi sempre due soluzioni possibili, una da una parte e una dall'altra perché se le cose non vanno, ci infiliamo dentro. Quindi poi un'altra cosa è quello per rispondere, adesso vi parlerò della mia strategia d'ingresso per descrivere come io ho fatto questa domanda, per rispondere sempre a Giovanni. Come devo fare a imparare a comprare sui minimi e vendere sui massimi? Giovanni non si può fare comprare sui minimi e vendere sui massimi, non si può fare perché se si potesse fare una cosa del genere noi avremmo un cavolo di bancomat a nostra portata, a nostra disposizione saremmo tutti miliardari. Se esistesse una tecnica che ci fa comprare sui minimi e vendere sui massimi, non si può fare. E vi dico anche un'altra cosa ragazzi, io avevo una posizione coperta da opzioni, quindi strategie complesse, anche a ribasso su bitcoin. È stata gestita con tutti quegli ingranaggi, quelle cose che mi invento ovviamente quando faccio strategie complesse. È andata a pareggiare in quel caso perché le opzioni coprono anche questo rischio, quella è una strategia strana, estremamente complicata ragazzi, non si può parlarne ora. Però quando anche le operazioni non vanno come noi vorremmo, dobbiamo andare via dai mercati e comprare sui minimi e vendere sui massimi è una cosa totalmente impossibile. Però si può fare ancora una volta con un grande studio e applicando le strategie di analisi tecnica, anche basilari a volte si può cercare di massimizzare questa cosa, questo spazio tra il massimo e il minimo, diciamo tra l'acquisto sul massimo e la vendita, l'acquisto sul minimo e la vendita sul massimo. E quello si può fare, e quello si può fare e andiamo a vedere come l'ho fatto io in questa operazione bitcoin. Ragazzi oggi vi svelo una delle mie strategie preferite per gestire i mercati, per gestire bitcoin. Questa strategia tra le altre cose io l'ho descritta e spiegata alla perfezione nel mio corso di formazione It's Training Time nel modulo Start & Master. Tutti quelli che hanno seguito questo corso hanno visto questa strategia di cui vi parlo oggi ed è la stessa che ho utilizzato per fare questa operazione perché era estremamente ghiotta ragazzi, a volte il mercato ci dà anche operazioni semplici. Allora andiamo a descrivere tutta l'operazione, volevo fare un'operazione non di lungo periodo, quella di lungo periodo è ancora dentro, è ancora lunga ragazzi, volevo fare un'operazione di breve perché quando parte un nuovo ciclo e quello che io mi attendo a volte fa questi impatti impulsivi. Il mercato delle criptovalute lo fa, guardate qui per esempio, il grafico orario sul mercato di bitcoin adatto ragazzi ecco a fare alcune operazioni interessanti come queste, quindi veloci che dovevano essere operazioni che devono andare a chiusura entro poco tempo, massimo un giorno, due, non di più ragazzi. Questi sono queste bitcoin portate indietro nel tempo al 17 di dicembre, ora io mi attendevo questo minimo inferiore al precedente, l'ho detto più e più volte e poi mi attendevo il famoso livello di supporto, ma chi con me sta da un po' anche chi ha fatto tutti i miei corsi che è in academy sa bene che i livelli di supporto così ma anche quelli di resistenza quando vendo non devono essere al centesimo ma delle aree ragazzi ok? Non mi fate rivedere le stesse cose che ho fatto sempre, quindi questa in sostanza era la mia area, la mia area buy, va bene? Allora a un certo punto il mercato va avanti e entra nella mia area, a questo punto cosa faccio? Se dovessi ragionare al tentativo di prendere i minimi, di andare a comprare i minimi, quello che dovrei fare è andare a comprare immediatamente quando il mercato crolla e va giù. E questo è un problema ragazzi, perché? Perché noi non sappiamo nel momento in cui il mercato va giù se continua a scendere oppure se a un certo punto va a rimbalzare. E questo è fondamentale comprenderlo, ecco perché non andiamo a comprare quando il mercato tocca un minimo. Per esempio io su questo livello di supporto in questo momento che il mercato aveva fatto non ho comprato e anche qui vedete, adesso ve lo stoppo, quando il mercato è entrato nella mia area io non ho comprato. Ho fatto andare avanti il mercato perché non sapevo quello che faceva, almeno quando ha fatto questo spike, vedete è arrivato al minimo e non ho comprato neanche lì. E questo perché? Perché io su un mercato che va giù non vado a comprare, non metto la mia manina su un coltello che cade, ma aspetto che il mercato mi dia un segnale che i tori, quindi per le operazioni longa, hanno ripreso fiato. E questa strategia mi ha consentito di prendere questo rimbalzo. Adesso vi faccio vedere più o meno quello che ho fatto. Allora, la strategia consiste nell'acquisto di un mercato che sta andando giù quando il mercato inverte la sua tendenza di breve periodo. Intanto la struttura della tendenza di breve periodo noi la possiamo costruire con una trendline e questa trendline io l'ho creata in questo modo, vedete, ok? Questa è una trendline che ho creato quel giorno lì, quindi io ho un segnale di inversione se il mercato va al di sopra, chiude una candela al di sopra di questa trendline e poi ho anche queste medie mobili che mi interessano moltissimo in questa fase. C'è un'altra indicazione che uso sempre ragazzi quando uso questo tipo di strategia, guardo l'RSI perché è una strategia di breve, in questo caso l'RSI è utilizzabile e l'RSI mi deve dare una divergenza. Anche qui l'RSI ragazzi ci ha dato la divergenza perché vedete il mercato scendeva, appunto è inutile che vi rifaccio la trendline e l'RSI saliva. Quindi c'era una divergenza, un leggero iper venduto. Questo non è un'indicazione che il mercato rimbalzerà, devo sempre attendere l'inversione di trend, però un po' mi aiuta ad aumentare le mie probabilità di vittoria. Dopodiché sono andato ad aspettare che il mercato facesse l'inversione come da strategia che ho spiego nel mio corso di informazione Start & Master, dove avviene questa inversione. Vedete ragazzi, avviene esattamente tra questo punto, questa candela qui e questa candelona qui. Io ho perfettamente atteso la candelona grande, quindi aspettando anche la rottura di questo massimo, quello mi sembrava un fake, era troppo pericoloso, non l'ho fatto. E quindi dove sono andato a comprare? Dov'è il mio ingresso long ragazzi? Il mio ingresso long è stato fatto qui, 6860 ragazzi, non 6470. Questo non significa comprare sui milibi, vedete c'è tanto spazio, però ragazzi non c'era modo di fare diversamente. L'unica cosa poteva essere un acquisto un po' azzartato qui, ma è estremamente pericoloso, bitcoin quando è volatile ragazzi non conviene. Dopodiché ho inserito un secondo acquisto e questo secondo acquisto l'ho inserito dove? In pullback, quindi su questo livello. Ma il mercato non c'è mai arrivato, quindi un acquisto a 6.700. Andiamo avanti e andiamo a vedere quello che è successo. Dopodiché da questo momento in poi io vado in profitto sulla mia operazione ragazzi, nelle ore successive. Vedete, sono andato in profitto in questa operazione. Il mio pullback non è stato toccato dal mercato, quindi non entro con una seconda posizione, rimango con questa qui a 6.850-6.860. Dopodiché vado a gestire la mia posizione. Questi sono, erano già disegnati sul grafico, i miei livelli di target ragazzi. Dove? Allora dico, se io arrivo qui vendo perché sto cercando di vendere sul massimo? No, di nuovo no. Come l'ingresso è stato fatto in maniera statistica, matematica, programmata, anche l'uscita è così. Quindi anche l'uscita in questo caso non era al tocco di questi livelli di resistenza. Io non esco mai così ragazzi, poi alcuni lo fanno assolutamente, ognuno ha la propria strategia. Se funziona tutto va bene. Sono uscito quando il mercato, toccando uno di questi miei livelli, ha invertito il trend. Di nuovo ragazzi, poi chiaramente sta anche al trader, vi faccio anche capire il ragionamento, capire dove arriviamo, se siamo in eccesso o in eccesso. Allora facciamo andare il mercato ancora avanti, vi faccio proprio vedere in tempo reale questa situazione. Allora prima candela mi sponda completamente il primo livello di target, quindi niente da fare, non fa nessuna differenza. Se ne va sull'altro già mi dà una candela che sembra invertire. Qui si accende il mio, la mia idea di chiudere. E aspetto la successiva candela anche in time frame più piccoli, la vado a guardare per vedere se effettivamente fa dei segnali di inversione. Non c'è nessun segnale di inversione, neanche su time frame inferiori, zero ragazzi, niente. Dopodiché abbiamo un candelone gigantesco che mi distrugge in sostanza il terzo target e il quarto target. Ragazzi, guardate bene che a livello personale il mio target finale era 7600, cioè quello proprio ragazzi che se lo prendi chissà che succede. Quindi in sostanza per me arrivare a questi livelli era già essere in ipercomprato, cioè è un eccesso ragazzi per me questa cosa. Quindi di nuovo attendo il mercato e vediamo cosa fa. Arrivato a un certo punto mi fa una candela di questo tipo ragazzi, ok? Questa è una candela che non mi piace assolutamente perché rimbalza sul mio target, se ne arriva dietro. Dopodiché all'interno di questa candela fa un'inversione su time frame inferiori, se guardate i 15 minuti. Ora qui ragazzi non ci perdiamo se il video esce 3 giorni. Dopodiché io ho chiuso la mia operazione, vi dico direttamente dove l'ho chiusa. Qui a 3360, qui ragazzi, ok? Quindi il mio profitto è stato da 6860 a 7360, ok vi faccio il disegnino. Questo è stato il mio profitto, nulla a che vedere con il massimo e il minimo. Il minimo era qui ragazzi, il massimo era qui. Quindi questa è stata la mia fetta di torta. Ecco come si ragiona quando si fa trading, ecco quello che succede dietro le quinte, il backstage. Vi ho fatto vedere, come regalo anche di Natale, una delle mie strategie preferite che spiego nel mio corso, in dettaglio ovviamente con tutti i requisiti, e vi ho fatto capire cosa c'è dietro le quinte quando faccio queste operazioni. Bene ragazzi, video lunghissimo. Buon fine settimana a tutti, fine settimana di Natale. Divertitevi, speriamo che i mercati continuino questa loro cavalcata. Noi ci rivediamo lunedì con un video speciale per la chiusura dell'anno e anche l'analisi ciclica e tecnica dei mercati. Ciao!